C'è un sistema di coordinate celesti? E' complesso dal punto di vista matematico interlacciare il sistema di coordinate equatoriale con quello che vi faccio vedere e vi spiego in questa lezione. Tuttavia in questa lezione, dato che ci siamo proposti di approfondire tutti gli aspetti astronomici dal punto di vista matematico, vedremo di andare un pochettino più a fondo su questo sistema di coordinate eclittico, che avrà delle importanti ripercussioni sulla determinazione delle coordinate equatoriali delle stelle in funzione del tempo. Nel senso che noi siamo sempre partiti dal presupposto che le coordinate delle stelle nel sistema equatoriale siano delle coordinate praticamente fisse. Ma come vedremo, per effetto del fenomeno della precisione generale degli equinozi, ma anche per effetto di altri fenomeni come la mutazione, queste coordinate variano col tempo, ma variano col tempo in maniera molto lenta. Nel senso che noi abbiamo praticamente il ritorno o quasi delle stesse coordinate di una stella dopo circa 26.000 anni. Quindi sono dei movimenti estremamente lenti per cui quando noi da un catalogo prendiamo le coordinate di una stella riferite all'equinozio e quindi all'equatore celeste che osserviamo in cielo ai giorni nostri, ebbene queste coordinate possono essere mantenute più o meno rigide per un certo lasso di tempo. Ma come vedremo, queste coordinate equatoriali cambiano sensibilmente. Però in questa lezione vediamo soltanto di fermare la nostra attenzione sull'interlacciamento che c'è tra le coordinate equatoriali e le coordinate eclittiche e vediamo quali tipi di trasformazioni si possono fare assumendo che l'origine di queste coordinate sia un punto fisso. Allora, molto brevemente, ripeto ancora che le coordinate equatoriali e le coordinate eclittiche come vedremo tra poco, vengono contate da un punto particolare sulla volta celeste che si chiama punto gamma. Il punto gamma è nient'altro che quel punto proiettato sulla volta celeste che è definito dal prolungamento della linea di intersezione ottenuta tra il piano dell'equatore celeste, come vedete in questa figura, con il piano dell'eclittica. Allora, il piano dell'equatore celeste è praticamente la proiezione in cielo dell'equatore terrestre, mentre il piano dell'eclittica è il piano dell'orbita secondo cui la Terra rivolve intorno al Sole, ma che stando sulla Terra noi vediamo il moto apparente del Sole sulla volta celeste avvenire appunto su questo piano dell'eclittica. Ebbene, quando questi due piani si incontrano generano due punti, un punto nel cielo chiamato punto gamma e un punto diametralmente opposto che qui si vede appena e lo chiamato punto omega. Dato che le coordinate vengono considerate a partire da questo punto gamma, perché è stato scelto questo punto gamma? Proprio perché il Sole passa soltanto una volta all'anno per questo punto e più precisamente quando il Sole passa da declinazioni negative, quindi quando il Sole è sotto l'equatore celeste, ecco che si avvicina a questo punto, lo attraversa ed ecco che le declinazioni del Sole tendono ad aumentare. Quindi in questo particolare istante che coincide con l'equinozio di primavera abbiamo sulla volta celeste questo famoso punto gamma. Quindi se noi consideriamo i due sistemi e li sovrapponiamo vediamo cosa succede. Allora, per quanto concerne il sistema equatoriale, noi abbiamo la nostra semisfera, questo è l'equatore celeste, qui prendiamo in considerazione una certa stella, questa stella avrà due coordinate equatoriali. La prima, che è l'ascensione retta, è praticamente l'angolo esistente tra il punto gamma e il punto T che è ottenuto su un cerchio massimo che parte dall'asse polare celeste, P passa per la stella e si proietta in maniera perpendicolare all'equatore celeste e quindi questo angolo gamma T, quel che vedete qui in figura, rappresenta proprio l'ascensione retta nel sistema equatoriale. Mentre l'altezza che esiste tra il piano dell'equatore celeste con la stella presa su questo cerchio massimo P stella T, viene chiamato declinazione. Ovviamente la declinazione è un angolo che va da 0 a più 90 gradi nell'emisfero nord e da 0 a meno 90 gradi nell'emisfero sud. Mentre l'ascensione retta viene considerata in senso anti-orario a partire dal punto gamma fino ad arrivare sulla proiezione della stella sull'equatore celeste e questa coordinata, come abbiamo già visto, è una coordinata angolare però espressa in unità di tempo infatti l'ascensione retta va da 0 ore a 24 ore di tempo siderale sull'equatore celeste e contata in senso anti-orario. Però allo stesso tempo questa stella avrà anche delle altre coordinate riferite ad un altro sistema di coordinate. E infatti se invece di prendere in considerazione come cerchio di base l'equatore celeste prendiamo come cerchio di base l'eclittica o il piano dell'eclittica ecco che noi possiamo generare dal piano dell'eclittica con un'asse perpendicolare a detto piano quello che viene chiamato l'asse polare dell'eclittica che va a incontrarsi in un certo punto K in cielo. Ebbene l'angolazione esistente tra l'asse polare celeste con l'asse polare dell'eclittica corrisponde a proprio questo angolo epsilon che viene chiamata obliquità dell'eclittica e che ha un valore ai giorni nostri di 23 gradi 26 primi e 12 secondi all'incirca. Vedremo poi nella prossima lezione come anche questo valore cambi col tempo però diciamo che questa variazione è una variazione molto lenta però per il momento prendetelo come un valore fisso. Di conseguenza la stessa stella che abbiamo visto prima e che ci ha permesso di determinare le coordinate quattoriali questo sistema ci permette di determinare le coordinate eclittiche. Infatti se partiamo dal volo K dell'eclittica e passiamo con un cerchio massimo attraverso la stella in questione fino ad arrivare poi sul piano dell'eclittica ecco che noi identifichiamo due coordinate la prima coordinata viene chiamata longitudine eclittica ed è espressa con la lettera greca lambda ed è considerata positiva in gradi a partire dal punto gamma contata in senso antiorario fino a raggiungere il punto R che è praticamente la proiezione della stella sul piano dell'eclittica. Quindi questo angolo gamma R viene considerata come longitudine eclittica ed è espressa in gradi primi e secondi contata in senso antiorario in maniera positiva da 0 a 360 gradi. Mentre la seconda coordinata che parte praticamente dalla stella e sta praticamente sull'arco di cerchio massimo K stella e che arriva in maniera perpendicolare al piano dell'eclittica ebbene la distanza stella punto R perpendicolare al piano dell'eclittica viene chiamata latitudine eclittica questa è espressa in gradi e va da 0 a 90 gradi nella parte diciamo dell'emisfero boreale e da 0 a meno 90 gradi per quanto riguarda l'emisfero australe. A questo punto noi possiamo trasformare indifferentemente le coordinate equatoriali in coordinate eclittiche oppure fare il viceversa a partire dalle coordinate eclittiche a quelle equatoriali. Vediamo allora quali formule bisogna utilizzare per effettuare questo passaggio. Allora immaginiamo di conoscere l'ascensione retta e la declinazione di una stella e vogliamo calcolare la longitudine eclittica e la latitudine eclittica assumendo però in questa circostanza che il punto gamma sia un punto fisso in cielo e che quindi non abbia questo lentissimo moto che avviene in circa 26.000 anni che è dovuto sostanzialmente alla precessione generale degli equinorte. Quindi immaginiamo questo punto come un punto veramente fisso rispetto alle stelle. Allora, per poter passare appunto dalle coordinate equatoriali alle coordinate eclittiche analizziamo questo triangolo il triangolo sferico K, P, S ecco qui mettiamoci una lettera giusto per indicare questa stella S e di questo triangolo sferico che cosa conosciamo? Conosciamo l'obliquità dell'eclittica Epsilon che è un dato di fatto di 23 gradi, 26 e 12 poi conosciamo anche l'ascensione retta della stella che la possiamo reperire dai cataloghi astronomici che vengono aggiornati anno per anno e diciamo che questa coordinata per il momento la possiamo considerare fissa. Quindi se questo è l'ascensione retta della stella questo angolo qui che comprende anche questo settore circolare che è esattamente di 90 gradi perché se noi tracciamo un arco di cerchio massimo che parte da P e arriva a gamma ecco che noi per poter arrivare a questo cerchio massimo che passa per P e K dobbiamo percorrere un angolo di 90 gradi quindi questo angolo completo sarà 90 gradi più alfa mentre la stella invece avrà una distanza dal polo nord celeste di 90 meno delta quindi è il complimento a 90 gradi della declinazione. Ora abbiamo già tutti gli elementi per poter calcolare la prima coordinata eclittica in questione cioè se noi applichiamo la prima formula di trigonometria fondamentale e vogliamo calcolarci il coseno di questo angolo allora il coseno di questo angolo è uguale al prodotto del coseno di questi altri due angoli più il prodotto del seno di questi stessi angoli per il coseno dell'angolo compreso tra questi due angoli. Detti in termini matematici possiamo dire allora che il coseno di 90 meno beta è uguale al coseno di epsilon per il coseno di 90 meno delta più il seno di epsilon per il seno di 90 meno delta per il coseno di 90 più alfa. Però il coseno di 90 meno beta lo possiamo scrivere come sen beta il coseno di epsilon lo scriviamo come cos'epsilon il coseno di 90 meno delta lo scriviamo come seno di delta il seno di epsilon lo scriviamo come il seno di epsilon il seno di 90 meno delta lo scriviamo come coseno di delta e il coseno di 90 più alfa lo scriviamo come meno seno di alfa perché qui vedete era più però il coseno di 90 più alfa diventa un meno sen alfa per cui questo segno più si sostituisce con un segno meno. quindi noi abbiamo ottenuto in questa maniera il seno di beta in cui abbiamo i valori noti di epsilon, di delta e di alfa e quindi facendone l'arco seno noi otteniamo il valore di beta in gradi quindi la latitudine eclittica. Ma se applichiamo a questo punto la seconda formula di trigonometria fondamentale possiamo dire che il seno di 90 meno delta sta al seno di 90 meno lambda cioè l'angolo opposto come il seno di 90 meno beta di questo lato sta al seno di 90 più alfa che è l'angolo opposto a 90 meno beta in questo caso l'incognita è il seno di 90 meno lambda che diventa praticamente un coseno di lambda il quale è uguale al coseno di delta perché questo seno diventa un coseno mentre il seno di 90 più alfa diventa un coseno di alfa e il seno di 90 meno beta diventa un cos beta però a denominatore per cui anche in questo caso otteniamo il coseno della longitudine eclittica facendo nell'arco coseno otteniamo il valore di lambda quindi anche questo espresso in gradi e in questa maniera noi dalle coordinate alfa e delta siamo arrivate alle coordinate beta e lambda possiamo ottenere anche il beta utilizzando la terza formula di trigonometria fondamentale che è questa cioè che il seno di 90 meno beta per il coseno di 90 meno lambda quindi il coseno dell'angolo adiacente è uguale al coseno di 90 meno delta per il seno di epsilon meno il seno di 90 meno delta per il coseno di epsilon per il coseno di 90 più alfa e poi l'angolo compreso tra questi due lati anche qui se noi portiamo il 90 meno lambda a denominatore otteniamo il seno di 90 meno beta ma seno di 90 meno beta lo possiamo scrivere come coseno di beta e quindi tutto il resto diventa coseno di 90 meno delta che diventa un seno di delta seno di epsilon resta seno di epsilon poi qui vedete c'è un meno e qui c'è un più perché il seno di 90 meno delta diventa un cos delta il coseno di 90 più alfa diventa un meno seno di alfa ma dato che qui c'è il segno meno ecco che questo seno di alfa diventa negativo e quindi qui meno con meno diventa più il tutto va diviso per il coseno di 90 meno lambda che il seno di alfa anche qui con la calcolatrice facendo l'arco coseno otteniamo il valore di beta quindi possiamo avere due opportunità di calcolarci la latitudine eclittica con le due formule di trigonometria sferica fondamentale la prima e la terza ora facciamo il discorso opposto noi conosciamo ad esempio le coordinate eclittiche lambda e beta della stella e vogliamo calcolare le coordinate equatoriali alfa del sempre mantenendo il punto gamma come se questo punto fosse fisso in C allora di nuovo applichiamo la prima formula di trigonometria sferica e diciamo che il coseno di 90 meno delta che sarebbe questo lato sarà uguale al coseno di questo per il coseno di questo quindi al coseno di epsilon per il coseno di 90 meno beta più il seno di questo per il seno di quello seno di epsilon seno di 90 meno beta per il coseno dell'angolo compreso coseno di 90 meno lambda andiamo a semplificare la cosa il coseno di 90 meno delta diventa un sen delta il coseno di epsilon rimane tale quale il coseno di 90 meno beta diventa un seno di beta il seno di epsilon resta tale quale il seno di 90 meno beta diventa un cos beta e il coseno di 90 meno lambda diventa un seno di lambda anche qui facendone l'arco seno di delta otteniamo il valore di delta espresso in grado seconda formula di trigonometria fondamentale seno di 90 meno delta quindi questo diviso il seno di 90 meno lambda è uguale al seno di 90 meno beta fratto il seno di 90 più alfa qui dobbiamo ottenere il valore di seno di 90 più alfa che è portato a primo membro e diventa poi un coseno di alfa ma coseno di alfa sarà uguale al coseno di beta perché qui abbiamo un seno di 90 meno beta e abbiamo anche un seno di 90 meno lambda che diventa un coseno di lambda quindi cos lambda cos beta diviso il seno di 90 meno delta che è un cos delta al solito anche qui l'arco coseno ci dà il valore di alfa che è espresso in gradi ma che può essere poi successivamente trasformato in ore e questo avviene tramite il solito passaggio di dividere il valore di alfa espresso in gradi ottenute con la calcolatrice dividere per 15 gradi all'ora quindi facendo questa semplice trasformazione passiamo da questa ascensione retta espressa in gradi all'ascensione retta espressa in ore se applichiamo la terza formula come abbiamo fatto prima di trigonometria sferica vediamo che il seno 90 meno delta per il coseno di 90 più alfa l'angolo adiacente è uguale al coseno di 90 meno beta l'angolo opposto a questo angolo qui per il seno di epsilon meno seno di 90 meno beta coseno di epsilon per il coseno di 90 meno lambda che è l'angolo opposto a quello che abbiamo messo all'inizio ma in questo caso noi vogliamo ottenere il valore di delta per cui seno di 90 meno delta diventa un cos delta poi tutto il resto si riscrive a numeratore questa parte cioè il coseno di 90 meno beta sarebbe un seno di beta il seno di epsilon sarebbe un seno di epsilon e il seno di 90 meno beta sarebbe il cos beta il coseno di 90 meno lambda sarebbe il seno di lambda però dato che noi dobbiamo portare a denominatore questa quantità il coseno di 90 più alfa il coseno di 90 più alfa è uguale a meno sen alfa quindi cosa comporta questo? che questi valori che originariamente qui era positivo e qui negativo diventano qui negativo e qui positivo mentre questo seno di alfa diventa un valore positivo per cui facendone poi l'arco coseno siamo in grado di ottenere il valore di delta di nuovo della declinazione espressi in gradi primi e secondi bene, nella prossima lezione vedremo effettivamente come è possibile calcolare le coordinate equatoriali di una stella con il passare degli anni, addirittura dei secoli e dei millenni perché come abbiamo già detto il punto gamma è solo in prima approssimazione un punto fisso sulla sfera celeste ma vedremo che per il fenomeno della precessione generale degli equinozi e di altri fenomeni questo punto si muove sulla sfera celeste e muovendosi questo punto si muovono concordemente anche le coordinate delle stelle quindi arrivederci alla prossima lezione grazie a tutti grazie a tutti